Elisa è una sposa molto giovane, abbiamo comunque deciso di preparare per il giorno del matrimonio un make up evergreen in modo che anche vedendo fra molti anni le immagini di questo giorno abbia sempre delle immagini attuali che non soffrano troppo del passaggio del tempo e quindi che non siano vittime della moda, benché il make up abbia una tecnica, abbiamo adottato una tecnica evergreen ha però degli spunti molto giovani, molto particolari, uno di questi è l'aver scelto di utilizzare un colore rosato ma piuttosto acceso, volutamente non abbiamo scelto un make up troppo sottotono anche perché Elisa ha un vestito molto bello, piuttosto importante e soprattutto poco usuale nei toni del colore soprattutto, che ora non svelerò. Quando abbiamo preparato la prova trucco con Elisa ci siamo focalizzate soprattutto sugli occhi, quindi Elisa ha degli occhi molto belli, molto giovani, molto freschi, un po' stanchi provati dalle prove e dai preparativi per il matrimonio che sono stati volutamente valorizzati con un colore allegro come Elisa.